Salve, buongiorno, come posso aiutarla? Ok, quindi sta cercando della gioielleria PR, ok va bene, allora ha magari qualche idea di cosa vorrebbe vedere? Non so, le collannine, oppure i braccialettini, oppure... ah ok, va bene, allora facciamo così, le faccio vedere gli ultimi arrivi, magari così dopo si fa un'idea se qualcosa può essere di suo interesse. Partiamo da... quindi tendenzialmente sarebbero più collannine. Allora guardi, dopo ci spostiamo sulle collannine, giusto per darle un'idea, magari le faccio vedere, qualche... due braccialetti, giusto due, per farle vedere proprio le ultime arrivi che abbiamo. Allora questo è un braccialettino che va tantissimo di moda in questo periodo perché anche a me sinceramente piace tanto perché fa... un ottimo dintilio. Un ottimo dintilio. Allora il braccialetto si presenta così, sì con questa convenzione molto particolare, che ha bellissimo il tanto. Adesso glielo faccio vedere, che ha questo tintilio pazzesco, ha questo tintilio pazzesco. e poi ha anche una dedica e l'essenziale è invisibile agli occhi. Glielo faccio vedere anche da più vicino. Si, ha praticamente questo piccolo cuoricino. Poi su questo più grande è incisa la frasetta e poi questo piccolo brillantino. è un po' molto luce, sì. E ovviamente possiamo anche, se nel caso in cui lei lo preferisse, possiamo anche incidere una frase diversa. oppure anche su piccolino, su quoricino piccolino, si possono incidere le iniziali o magari una tappa, quello che si preferisce. Sì, è di ottima qualità, poi alla chiusura ha calavita. Perfetto, adesso mi sposto su un altro prodotto, quindi questo può anche essere casual e anche elegante, insomma anche per un uso quotidiano. Le faccio vedere il secondo braccialetto e poi passiamo subito alle collane. Allora, il secondo braccialetto si presenta in forma sciolta. Ovviamente sì, la scatola le sarà nata successivamente e diciamo è questa catenina fatta tutta di piccoli diamantini che è molto molto elegante. e quindi io lo suggerisco per occasioni, sì, eleganti o speciali ed ha una lucentezza pazzesca al braccio e quindi anche all'interno di tutto il contesto dell'aspetto. Questo è molto scintillante alla luce del sole, lo è ancora di più, rende quindi la luce naturale, rende ancora di più. Sì, sono una ventina o trentina di punti luce. Poi sì, il braccialetto può anche essere abbinato a una collannina di tipo simile oppure anche a un punto luce più semplice. Dipende sempre dal tipo di persona alla quale lei vuole regalare questo braccialettino. Ok, adesso passiamo al completo, quindi le proporei la collannina con gli orecchini. e questo è un colore, prima le faccio vedere con i punti luce, quindi con i diamantini colorati e dopo una cosa un po' più semplice, quindi meno e meno appariscinte. Allora, se la confezione è molto elegante, poi ci sarà il fiocco, quindi annunceremo un fiocco sopra nel caso in cui lei si decida di prendere questo prodotto. Ecco, un marrone scuro con il colore beige e al suo interno questo è il prodotto, quindi abbiamo un orecchino, il secondo orecchino e la collannina che è abbinata con gli orecchini e il colore è questo azzurrino acquamarina e ha queste catenine pendenti che sono molto particolari. e allora le faccio vedere magari l'acqua o la collannina, vediamo se riusciamo a tirarlo fuori. Allora lì, queste catenine sono molto particolari, il colore è bellissimo. Poi si è abbinato a un vestitino nero classico, diventa molto evidente e molto appariscinte. Ok, allora andiamo a farle vedere. Allora, questa è quindi la collannina, si presenta così con questi due punti, con questi due punti luce bellissimi. E queste catenine? Sì, quindi la forma vista sulla persona sarebbe così. Bene, adesso passiamo al secondo prodotto. Sì, ora vi faccio vedere. Sì, ora vi faccio vedere. Ecco, qualcosa qua si decida per questa opzione. Allora il secondo completo che abbiamo, ed è uno degli ultimi arrivanti. l'altro è... è questo. Praticamente c'è la collana che adesso la tiro fuori per fargliela vedere. e gli arricchini molto piccoli, molto eleganti, ma anche che non dipende cosa si abbinano. e la collanina che in realtà viene a stretto collo. E quindi vi faccio vedere. Ok. Ecco questa è la collanina. Si può essere portata sia da questo lato che quindi a questo tipo di decorazione. Sia dall'altro lato che a questo tipo di lavorazione quindi di tipologia di collana. si sono un po' diversi. Si sono un po' diversi. Ok. Quindi uno è questo. Questo è un lato. E questo è l'altro lato. è un po' diversi. Si sono carini tutti e due. La qualità è veramente ottima. Sì, certo è tutto questo in argento, ok perfetto, le mostro come starebbe, questo è quindi un lato, o così si fa di altrettanto collo, quindi si porta così, è molto sensuale secondo me, oppure l'altro lato che è così, ok perfetto, allora ci spostiamo sul prodotto successivo, ecco, mi sono discordata prima di aver vedere se il regalo è per una persona molto particolare, che comunque sarà presente nella sua vita, e abbiamo quest'ultimo braccialettino arrivato adesso le faccio vedere allora, e si presenta così allora, prima dicevo, per una persona, magari, molto cara o che sarà presente nella sua vita, perché questo qui è il segno dell'infinito, e quindi rappresenta appunto l'amore che è il segno dell'infinito e che possa durare per sempre, o qualsiasi tipo di amore che sia verso la mamma, verso la sorella, verso la fidanzata, verso la morosa, verso la moglie, verso la figlia. E così, secondo me è molto bello, e si presenta in questo colore bronzo, diciamo, o rosa, rosa antico, e con i brillantini, abbiamo dei brillantini punti luce qui, e poi con i cuoricini, questo è quindi un braccialettino, per qualsiasi occasione, diciamo. Ok, adesso le presento le ultime due collanine, che sono completamente diverse dallo stile che abbiamo visto prima, però, secondo me, bellissime, molto particolari. Allora, una è questa, e l'altra è questa. Sì, magari per le persone che sono un po' più, che tendono, ecco, insomma, piace essere visibile, o comunque notate. Anche qui, quindi, è pazzesco. Adesso gliele faccio vedere da più vicino, singolarmente. Allora, in realtà, possono sembrare molto, molto visibili, però, ecco, se abbinate a un vestiario, elegante, semplici, diventano molto, un dettaglio, veramente molto particolare, molto apprezzato. Le faccio vedere anche l'altra, che abbiamo visto prima. che avrà un aspetto così. Ecco, quindi, questi sono gli ultimi arrivi. Lei ci pensa un attimo e poi ci faccia sapere cosa preferisce. Ok, procediamo con l'acquisito. Grazie.